Io mi chiamo Mirallo, sette anni e mezzo. Mi chiamo Edoardo, mi è piaciuto stare qui perché si vede tutto il museo, ci sono questi percorsi un po' avventurosi con queste tende. Edoardo e Mirallo sono due dei giovanissimi ospiti di Arcipelago Emozionale, tragitto in dieci tappe al Museo di Santa Giulia, tappe segnalate da altre tante piccole tande illuminate, che nascondono al loro interno un oggetto che rimanda simbolicamente al patrimonio museale e delle istruzioni su un biglietto. Scopri il messaggio a te riservato. I bambini, seguendo il messaggio, sono sollecitati a interagire in prima persona con quanto si trovano di fronte, intraprendendo un'esplorazione del museo e di se stessi. La cripta in San Salvatore, Santa Maria in Solario e i chiostri diventano otto selli di un viaggio personale. In una postazione, per esempio, sono invitati a condividere le prime parole che ricordano di aver imparato. Papà, mamma, ape, bombo e poi nonno. In un'altra, invece, trovano un uovo. Alzati gli occhi, hanno davanti a sé un basso rilievo in cui proprio il motivo dell'uovo ha grande importanza simbolica. Un uovo che troviamo anche all'interno di questo bellissimo basso rilievo che rappresenta la nascita di Maria. Un basso rilievo del XVI secolo, la madre di Maria sta proprio mangiando delle uova per riprendersi dopo la fatica del parto. I giovani esploratori sono accompagnati dai genitori. Il personale è molto disponibile e ci dà modo di visitare questo museo in modo divertente. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Teatro Telaio e Fondazione Brescia Musei. Un progetto che è destinato a continuare nel tempo. Avremo un altro appuntamento nel weekend 24 e 25 di luglio e poi stiamo pensando...